RIDI AMA VIVI Le pratiche di benessere che ho incontrato nella mia vita, quelle che mi hanno dato di più, le insegno e sono diventate la mia filosofia di vita. RIDI AMA VIVI RIDI AMA VIVI è l'invito ad una scelta, quella di coltivare la risata, l'amorevolezza, le emozioni positive, l'apprezzamento, la gentilezza, la gratitudine, la generosità. Lavorare sulla nostra felicità, coltivandola, allenandola e facendo le azioni giuste. Sì, perché abbiamo una sorta di ostacolo, una sorta di intralcio alla nostra felicità, che abbiamo proprio ereditato a livello evolutivo, il negativity bias, un errore percettivo, cognitivo, che ci fa spostare irresistibilmente l'attenzione verso quello che di negativo c'è, di minaccioso, di sbagliato, anche alla lontana. Il negativity bias ha sì salvato il nostro antenato e ci ha portato fino a qui, facendo scattare l'azione attacco-fuga, ma di sicuro adesso non ci aiuta, anzi alimenta stress e malessere. In quanti, scrollando la bacheca, siamo attratti dalle notizie di cronaca, dal gossip, oppure leggiamo le recensioni ad una stella quando magari ce ne sono centinaia a cinque stelle. Ecco, tutto questo è normale, è innato, lo abbiamo ereditato. E proprio per questo è importante spostare l'attenzione, consapevolmente, su quello che di bello c'è nelle nostre vite, coltivandolo anche grazie alle pratiche di benessere. Le pratiche di Ridi Ama Vivi sono azioni che per essere efficaci vanno ripetute, praticate appunto, che non restano parole o teorie, ma che diventano fatti, abitudini positive, routine della felicità che giorno dopo giorno ci aiutano a stare bene, a gestire lo stress, a ricaricare le batterie e che diventano punti fermi in un mondo sempre più complesso, sempre più caotico. Ridi Ama Vivi, il primo passo è Ridi, il primo passo è sulla risata, la risata mi ha salvato la vita. Nel centro yoga che frequentavo ad un certo punto arriva un ospite, era il 2009, che misura l'energia con una macchina particolare. Il risponso su di me è che l'energia è bassissima. Avevo 35 anni, lavoravo come commessa in una libreria dopo un dottorato di ricerca che non era sfociato nella carriera universitaria. mi sentivo senza prospettive, senza senso, come su un treno lanciato a folle velocità senza fermate, non stavo dando il mio contributo, non stavo mettendo a servizio i miei talenti. questa persona mi consiglia di fare un residenziale, un ritiro meditativo di tre settimane, qualcosa di lontanissimo dalla media all'ora, ma mi affido, la mia energia era importante, e intraprendo questa esperienza. La prima settimana di queste tre si doveva ridere, in gruppo, tutte le mattine, per tre ore di seguito, senza parlarci. Una cosa che sembra stranissima, fattibile. Mi impegno, mi do da fare, rido, rido, scopro di avere la risata profondamente contagiosa, e coinvolgo gli altri a ridere, a sbloccare la loro, e ritorna anche la mia energia. Quando torno da quell'esperienza, tutto cambia. Vedo finalmente Matteo, un cliente della libreria, con occhi diversi, iniziamo a frequentarci, e la relazione dura tutt'ora, anzi è un crescendo continuo. E poi, prendo anche il coraggio di lasciarla, quella libreria. Lo yoga della risata, la pratica che insegno, la prima pratica, la incontro due anni dopo, cercando per caso in internet. Quando vedo che esiste una pratica che struttura, la risata e la pasta, la condivide, penso che è qualcosa che mi calza a pennello. La risata incondizionata, la risata fatta per scelta, è empowerment. Ci dà energia, ci dà carica, ci dà forza, ci dà grinta, ci cambia perspettiva, oltre a farci un gran bene a livello fisico, e a cambiarci un umore anche storto. La risata va coltivata, l'invito è a ridere dieci minuti di seguito ogni giorno, anche quando non abbiamo voglia di ridere. È proprio grazie a questa pratica continuata che questa risata fatta per scelta ci permette anche di trasformare quei momenti difficili che ci troviamo a vivere. La risata a livello fisiologico è semplicissima, ve la faccio vedere. Si ispira con il naso, si riempiono i polmoni, si trattiene, si trattiene l'aria nei polmoni, e si ispira ridendo. La risata infatti è il respiro. La risata ha ispirazione profonda, ci permette di buttare fuori anidride carbonica a stantia e di ossigenarci al meglio. La risata ci dà veramente tanta energia, ci sblocca il diaframma, ci fa liberare dalle emozioni spiacevoli, ci riconnette con il nostro bambino interiore, che ama gioire, giocare, liberando anche energia. La risata produce una biochimica potenziante, noi lo chiamiamo il joy cocktail. Produzione di endorfine, antidolorifici naturali, serotonina, un antidepressivo naturale, si abbassano i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Proprio a livello di fisiologia, la pratica di risata intenzionale è un'attività aerobica vera e propria, una sorta di ginnastica divertente. Quando ridiamo intenzionalmente, la circolazione migliora, migliora il sistema linfatico, ci detossiniamo al meglio, migliora la digestione, migliora il transito intestinale, diventiamo più regolari, migliora il nostro sistema immunitario, produciamo più immunoglobuli naegi che ci proteggono dalle malattie di raffreddamento, migliora la nostra gestione dello stress, la qualità del sonno e ci relazioniamo meglio agli altri. Come si fa? Ve l'ho fatto vedere e mi piace farlo insieme a voi, tutti insieme, quindi, inspiro, trattengo e rido. Facciamo insieme, inspiro col naso, trattengo, trattengo, trattengo l'aria nei polmoni e rido. Facciamolo di nuovo, inspiro. Trattengo, trattengo, trattengo. Grazie, grazie per aver riso con me. La risata, la risata è autocontagiosa. Capito il meccanismo di ispiro, trattengo e rido? È semplicissimo, basta ripeterlo, ok? Il resto viene da sé con l'intenzione. La risata ci porta nel cuore, centro del nostro coraggio di essere. A me è dato veramente tantissimo, mi ha aiutato a superare la mia timidezza, mio terrore di parlare in pubblico, perché a un certo punto avevo qualcosa di veramente importante da condividere, che stava funzionando per me e lo faceva anche per tutte le persone che incontravo. Ama il secondo passo. Incontro la coerenza cardiaca, il respiro del cuore, nel 2016, ma prima ti voglio raccontare del mio 2012, l'anno in cui è nata mia figlia, che per fortuna ora è sana e felice, ma la gravidanza è stata veramente difficile. Minaccia d'aborto al secondo mese, minaccia d'aborto al terzo mese, al quinto mese si roppono le acque, parte un viaggio ospedaliero, bello tosto, immobile sul letto, non potevo ridere, non potevo muovermi, usciva quel poco liquido che c'era. A un certo punto sento dentro di me la voce di mia figlia che mi sussurra, io perlomeno l'ho sentita, mamma stai tranquilla e respira, stai tranquilla e respira. E lì capisco che il respiro deve diventare un altro pilastro fondamentale della mia vita. Incontro la coerenza cardiaca, la pratica che vi ho condotto nel 2016, approfondendo come portare lo yoga della ristata ai pazienti Alzheimer. Mi consigliano di prepararmi con questa tecnica, vado in America all'ArtMath Institute, l'istituto americano di ricerca che studia il cuore dal 1991, 30 anni, e mi formo per portare questa pratica in Italia. Battiti. I battiti sono il ritmo della nostra vita, il ritmo del cuore che si espande, si contrae incessantemente. Il cuore è un organo straordinario, ha una memoria, sente, pensa, comunica con il resto del corpo e col cervello nel cranio attraverso molte vie, tra cui quella del ritmo cardiaco e quella più forte, i nostri battiti. Questo è un codice che produce tante informazioni per il nostro sistema. Un cuore sano non batte come un metronomo, accelera ed eccelera e lo fa di continuo. E questa capacità di accelerare e rallentare viene chiamata variabilità del battito cardiaco, heart rate variability, HRV. È massima quando nasciamo, piano piano si riduce con l'età e rappresenta un po' la nostra capacità di adattarci al mondo, di essere flessibili, di essere resilienti. Ma quello che hanno scoperto all'Art Math Institute di veramente importante è che il tracciato del nostro ritmo cardiaco cambia a seconda delle emozioni che viviamo. Quando viviamo emozioni spiacevoli, come paura, rabbia, frustrazione, tristezza, l'up and down del ritmo cardiaco, è completamente caotico e parliamo di incoerenza cardiaca. Quando invece viviamo emozioni rigeneranti, nutrienti, amorevolezza, gentilezza, calma, serenità, l'up and down del ritmo cardiaco comincia ad assumere la forma di un'onda sinusoidale. Parliamo di coerenza cardiaca. La coerenza cardiaca è uno stato psicofisico ottimale di grande centratura, di grande equilibrio, dove corpo, mente ed emozioni, cuore e cervello sono allineati e sincronizzati, dove pensiamo meglio, siamo più pronti a gestire la difficoltà. Non solo. Quando siamo nello stato di coerenza cardiaca, a livello ormonale, la produzione è positiva, si abbassano i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, si raddoppia la produzione dell'ormone antagonista del cortisolo, DHEA, l'ormone della giovinezza, della vitalità. non solo. Quando siamo nello stato di coerenza cardiaca, attraverso il campo elettromagnetico prodotto dal cuore, circa 3 metri di diametro, siamo in grado di trasferire, diffondere, la nostra centratura, il nostro equilibrio, il nostro stato di coerenza a chi c'è intorno, a chi è nel nostro raggio. Quindi ve lo siete diffuso prima. Come si fa ad entrare nello stato di coerenza cardiaca? Innanzitutto vivendo di prima battuta quelle emozioni che naturalmente ci portano in quello stato. Ma poi l'Art Matt Institute ha ideato una tecnica per entrare nella coerenza cardiaca che si basa sulla respirazione, rallentata e sul richiamo di queste emozioni rigeneranti. Servono tre spostamenti. Il primo, sposto l'attenzione dalla testa, dai pensieri al centro del petto, all'area del cuore perché è qui che voglio cambiare attraverso il respiro il ritmo cardiaco e renderlo più armonico. Il secondo spostamento appunto al respiro. Inspiro contando fino a 5 come se l'aria stia entrando nel centro del petto o nell'area del cuore. Espiro contando fino a 5 come se l'aria stia uscendo dal centro del petto o dall'area del cuore. Se sento che 5 secondi sono tanti trovo la mia dimensione sostenibile 4 più 4 3 più 3 continuo a respirare in questa maniera. Il terzo spostamento è il richiamo di un'emozione rigenerante. A me piace chiamarli gli stati di grazia. Quei momenti di bellezza, di perfezione che abbiamo vissuto nella nostra vita e che sono indelebili nella memoria. Li possiamo richiamare quando vogliamo. e quindi respiriamo in questa maniera mantenendo attiva la sensazione che richiamiamo. La pratica di coerenza cardiaca è semplicissima, accessibile, fattibile da tutti anche ad occhi aperti in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, a casa, in auto, al lavoro. Ha tantissimi benefici, ci calma, ci centra, ci dà padronanza di cosa dire, cosa fare nelle situazioni difficili, ci dà la capacità di gestire lo stress, di gestire emozioni che a volte rischiano di travolgerci. Se praticata per cinque minuti ogni giorno, per sei settimane, un mese e mezzo, è in grado anche di rieducare il nostro sistema nervoso, a non scattare più in allarme ad ogni tre per due, ma a farlo quando è veramente necessario. E poi c'è il vivi, la terza parte, vivi pienamente, battiti, porta con te come alleati la tua risata, il tuo cuore gentile, le tue emozioni positive da coltivare amorevolmente innanzitutto verso di te e poi verso gli altri. Le pratiche funzionano se le facciamo nostre, se le ripetiamo e ripetiamo. Appunto servono sei settimane perché una pratica diventi automatica, diventi un'abitudine nella nostra vita. Siamo quello che facciamo, quello che ripetiamo continuamente, dice Aristotele, e allora io sono un po' quella del fare, del fare, del praticare e in questo periodo di pandemia ho messo a servizio le tecniche che insegno indirette, diretta delle sette di mattina, quella di coerenza cardiaca, il pomeriggio yoga della risata insieme a Matteo e a volte non ho la minima voglia magari di condurre, capita, magari sono stanca, ma come mi metto a condurre cambia tutto, veramente le pratiche che hanno il potere di trasformarci. E allora ci sono tante persone che magari mi dicono ma sai, prima di incontrarti, prima di seguirti io non ero costante, non avevo delle abitudini, ma grazie al tuo esempio invece adesso sono costante e sono riuscito a trasformare momenti difficilissimi per tutti addirittura in fioriture gestendo lo stress, gestendo le emozioni, migliorando la qualità del sonno, migliorando le relazioni. Non aspettare di stare male per iniziare a prenderti cura di te. Il momento giusto è ora, il momento giusto per gestire lo stress, la paura, l'ansia, le emozioni spiacevoli è adesso. Non importa quale pratica scegli, scegli ne una, battiti, l'alleato vero sei tu, il tuo impegno, la tua dedizione, le tue pratiche positive, il tuo più uno gentile. Ridi, ama, vivi pienamente. Grazie. Grazie.